Ciao amici, oggi vi parlo dell'ultimo numero uscito in edicola di Diabolic, fino a prova contraria, numero 9 dell'anno 63esimo e vediamo i crediti. Allora, la storia è soggetto e sceneggiatura di Lotti e Mainardi, i disegni di Giordano, chine di Brandi, retini di Vasco, lettering Bonn e copertina di Buffagni, molto significativa. Allora, in pratica, inizia subito con uno scontro tra il signor Lancer e Arianna, che poi la vediamo qui in quarta copertina, in un night club. Il signor Lancer ha un visibilmente ubriaco, un malgredisce Arianna Harris, che retricamente gli rivela di essere incinta e in pratica la spinge e lei sbatte la testa in una colonna, vedete qua, e muore. E lui, retricamente considerato una persona violenta, viene subito arrestato, ma cerca di fargli tutto l'avvocato perché lo scagioni. Qui vediamo subito una curiosità, che la Diabolic è proprio sempre più milanese, perché tant'è vero che il palazzo di giustizia dove si svolgerà il processo è il palazzo di giustizia della città di Milano. Però chiaramente è come se venisse fatto un processo all'americana, ovvero con una giuria popolare. Tra i giurati c'è anche Eva, che è mascherata, appunto, cerca di allungare, facendo porre un dubbio alla giuria se lui fosse veramente colpevole, cioè se la polizia scientifica avesse svolto correttamente il proprio lavoro, oppure perché appunto proprio perché lui uomo viene subito accusato. Ma questo lo fa per permettere a Diabolic, qui vedete i disegni di Giordano sono belli, ma anche perché su Diabolic c'è molta precisione di dettagli, no? Vedete qui anche questo all'interno della villa, perché teoricamente lui deve rubare, in una villa, un famoso gioiello, la Perla d'Oriente e per far questo deve utilizzare un acido che occorre molto tempo affinché venga agisca nella cassaforte e questo lo porta, ecco questo vedete qui la Perla d'Oriente che poi riuscirà a rubare e teoricamente questo acido appunto vi occorre tempo per, come posso dire, per appunto per agire e quindi allunga, fa sì che appunto il giudice ogni volta e la stessa giuria rimandino a giorni successivi la decisione. Inoltre a un certo punto succede che Diabolic rischia anche la vita perché dei uomini che per caso due ragazzi hanno sentito che lui parlava, erano andati là per appattarsi, per amoreggiare, che ascoltando capiscono che lui sta rubando e quindi chiamano, ecco questo qui, questo boss diciamo, chiama degli uomini i suoi fidati per cercare di uccidere Diabolic, vedete qua c'è tutta la scena, di uccidere Diabolic e caparrarsi del bottino, ma chiaramente potete capire Diabolic si salverà e questo non è uno spoiler ma tanto sappiamo che è così. Il finale non ve lo dico perché vedrete cosa succederà, è una dischietta storia, sì certo Diabolic diciamo rilassa, però devo dire che in questi ultimi numeri c'è sempre un tema, in questo caso la violenza contro le donne, Eva che inizialmente infatti lei quasi, cioè lei lotta tanto dentro di sé perché lui sa che lui, questo Lancer, questo tipo proprio viscido, addirittura loro, anzi ecco una cosa che hanno detto, addirittura creano delle finte impronte di Arianna Harris per far creda alla giuria che in realtà lei la bottiglia di champagne che si era rotta, cioè il frammento, l'alcolo e la bottiglia, che adesso vi faccio vedere, ce lo ritrovo, ecco vedete qui lui lavora Diabolic, per mettere addirittura queste false impronte per creare appunto il dubbio nella giuria che il signor Lancer, che in realtà è il vero omicida, si sia dovuto difendere, alla fine quindi lei stessa è quasi pentita perché lo deve fare soltanto affinché il suo uomo, ovvero Diabolic, possa come ho detto agire nella cassaforte tramite l'acido e poter rubare la perla d'Oriente, quindi c'è il tema che sia sulla violenza femminile, è un tema che è battuto e ribattuto, però chiaramente qua nella visuale chiaramente sempre di Diabolic, non a caso più volte Diabolic è intervenuto contro i problemi sociali, ricordo un albo proprio che aveva un piovrone di fronte con mafia degli anni 80, credo che sia avvenuto proprio dopo l'uccisione del generale Nando dalla chiesa che è avvenuto adesso l'anniversario, il 42esimo anniversario della sua morte del 3 settembre, è avvenuto il 3 settembre 82, comunque una buona storia, gli do un 7, insomma disegni molto belli, però Diabolic in questo caso poi alla fine, sì diciamo che Diabolic è la classica lettura che o ami o odi, cioè prendere appunto lasciare, e niente non c'è altro da dire, adesso il prossimo, abbiamo il prossimo inelettico uscirà il primo ottobre con scomparsa, poi vedete Diabolic ancora resiste perché ha il suo appuntamento al buio, che è la ristampa, quella la prima ristampa con la costina bianca e poi la terza di stampa, la Diabolic Swish. Ebbene, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!